A Giulianova cominciano ad emergere le prime decisioni politiche in vista delle prossime elezioni amministrative in programma per la primavera del 2024. L'ultimo ad annunciare la propria volontà è Maurizio Di Filippo che come prima cosa ha deciso di dimettersi da segretario della Proloco del Comune Costiero per appoggiare con una propria lista la probabile candidatura alla carica di sindaco di Franco Arboretti, leader del cittadino governante. Sì, abbiamo già informato della nostra posizione, vediamo sicuramente la qualizzazione del cittadino governante del Movimento 5 Stelle, quelli più credibili attualmente per tutto il lavoro che hanno fatto in questi anni. Siamo rimasti molto delusi da questa amministrazione e per questo noi cerchiamo di muoverci con un contributo ancora portando tutte le iniziative e progetti che abbiamo realizzato in questi anni. C'è mancata la lungimiranza da questa amministrazione, quindi abbiamo fatto tutte le dimostrazioni possibili per far capire l'utilità di una Proloco sul territorio, ma questa amministrazione in tutti i modi ha cercato di allontanarci. Archiviata dunque l'esperienza con la Proloco Di Filippo in questi mesi, proverà a trasformare il gruppo G365 formato da operatori turistici e commercianti in una lista civica, ma ha precisato anche che non appoggerà che ha fatto parte della precedente amministrazione, targata Mastromauro. Adesso pensiamo di fare proprio questa lista civica affinché possa in qualche modo far ritornare tutte le persone che ci sono state di aiuto, tra le associazioni, i commercianti che erano all'interno del G365, ma tante realtà associative anche all'interno della Proloco. Contavamo più 250 attività nella G365 e oltre 80 tesserati nella Proloco. Quindi tutti insieme vediamo se riusciamo alla fine a portare qualcosa di molto più credibile e soprattutto molto più trasparente.